Penso che Joe Swinson si giochi la sua battaglia, la battaglia è come si vede dallo spot, la battaglia è quella contro la Brexit. Forse ha fatto una scommessa un po' troppo lunga, nel senso che probabilmente nel corso del tempo, giorno dopo giorno, nella campagna elettorale, la Brexit sembra sempre più smaterializzarsi a favore di altri temi, non solo i temi del day by day, ovviamente, quotidiano, dei giornali, ma temi di tipo sociale e di tipo economico. Quella che doveva essere il vento nelle ali della Swinson potrebbe invece rivelarsi la difficoltà all'impaccio e tradursi nella consueta terza posizione dei Lib Dem che quindi ogni volta stanno lì lì per e alla fine invece rimangono fuori dal grande gioco.